Vado avanti, non mi interessa del punteggio, cerchiamo di portarlo a termine, sono proprio rotto le scatole, che poi sono sempre gli stessi nemici, non è che dici ti danno fastidio questi qua, perché questi sono idioti. Buono, buono, non nemmeno ho dovuto fare tutte le ulti, ok buono, perdiamo tempo di qua purtroppo. Spice, è questo! I will have order! Gather! Yes! Let me trust, stabilize! Hey! I'm ready! Boba, get them! Make yourself alone! Born of icing frost, No, cos'è il cavolo? Sto facendo. Mi sono confuso con i comandi. Mi sono stra-confuso con i comandi. Oh, magari porta bene. Magari porta bene. Eh, aspetta che devo... Magari porta bene. Ai! E poi questo si sposta. Adesso se ne va uno lulu. Oddio! Oddio! Basta! Io non lo faccio più così lo sparo da bis. Basta! Cioè, siamo al floor 1! Cioè, al piano 1! Vabbè, sala 1, come cavolo si chiama. Cioè... Non se ne può più. Oddio mio! Cioè, fare la sparo da bis così non va... Cioè, non fa bene alla salute. Grit rate, grit damage. Yes! Non avevamo la Bars di... Kujo Sara. Non ha cretato? Che sagra non ha cretato? Meno male perché si stava alzando su. Avremmo perso un botto di tempo. Tutto sommato bene. Tutto sommato bene. Aspetta, no! Vabbè. Tanto sempre le azioni dovremmo fare, quindi... Lo faccio del regno di 교ve. Tanti staggezzi. Questa è una misura. Tanti staggezzi. Qua la cosa migliore Era quella di raggruppare i nemici Però dato che non lo possiamo fare Perdiamo tempo I see everything Sharing my knowledge I will have order Born of ice and frost Stabilized We're waiting Everyone's open All hail Access denied Solidified Buono Mi stavo preoccupando alla fine Perché ho detto Oddio c'è un cosino rosso Il nemico si è spostato Meno male Meno male In ogni caso In ogni caso Vedi quanto cavolo è utile La boss di Ganyu Perché tanto a me serve Fare la reazione Che poi certo È meglio farla con l'attacco caricato Ma quando ci sono troppi nemici Non bisogna essere schizzinosi Quindi più riesce a colpirne Meglio è Ultima parte Speriamo bene Ricarica energia personaggio Ma sì dai Against all dei Torn amendi Torn to oblivione Grazie a tutti Forza Bravo Raiden Dai, dai che lo finiamo questo sparo d'Abyss Forza Qua abbiamo l'unica problematica come sempre Che Ganyu è in fin di vita O meglio c'è ancora un pochino di verde Ma potrebbe subire tanti danni Però siamo fiduciosi Andiamo Nooo Non ti devi arrampicare, dai Aspetta che mi... Ecco No, perché non è partito l'attacco? Cioè, ho sbagliato io con i comandi I see everything Sharing my knowledge Get them Eat this I will have order Born of ice and frost Stabilize Super tattica Mamma mia Come mi è andata bene La super tattica Della burst di Ganyu Prima non lo utilizzavo mai Adesso mi sa che lo andrò anche a livellare Perché guarda cosa si riesce a fare Cioè, l'ho detto che era fattibile Ci vuole un pochino di pratica Però con questo Abbiamo finito anche questa sessione di Sparad Abyss Con il meteorite E il signorin